L'attesa dell'autobus. Eccolo! Eccolo, eccolo, è arrivato! Agricoltura e rally. Per un pelo! Rivediamo lo scampato pericolo da un'altra inquadratura. E' in arrivo il drone. Sta precipitando in acqua! Presto! Presto, recuperalo! Attenti alla signora! Si è salvata per un pelo! Rivediamo subito! Rivediamo subito! Rivediamo subito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.